saluto pure gli amici di ticino cos'è ragazzi avventura notturna stano non vi posso far vedere niente andiamo a cavare vai a sinistra willy noi ci arreniamo non finisce più sta salita adesso arriva la correntola che bene siamo arrivati vicino ok siamo arrivati c'è una cosa buonanotte era pulito si guarda lì nella cosa pulisce perfettamente l'ora guarda come è bello pulito senza neanche fantastico guarda che grossa andiamo avanti fatemi guarda qua questa qui blocca questa è talmente grossa qualcuno capita sì sì lo so niente noi ci stiamo dietro guarda che macchina è una macchina non faccio tempo a caricarla e ci vuole una bella fagioli fagioli formaggio da grattare sopra ce n'è eh bellini è arrivato da caliata accenderci il formaggio a noi buon appetito ragazzi buon appetito buon appetito buon appetito siamo arrivati al sessantesimo cabasso la carne vi è durata un giorno la carne vi è durata un giorno non è andata mai l'abbiamo calda ti avevo detto doveva farla ieri sera io lo dicevo anche io l'ho detto facciamo che mossa è magnata di brutto anche da fredda ancora più buona mentre la buttavo volevo dargli un po' la carne vi è durata non ce a vedere se qualcosa di più greco non ce a vedere se qualcosa di più greco non ce a vedere se qualcosa di più greco guarda da baccaturato ci vediamo poi stasera al party al trenimo club eccoci qua oggi è l'ultimo giorno andiamo a lavare il concentrato che abbiamo fatto adesso qua e adesso ci vediamo un po' d'oro adesso questo qui è il primo cucchiaino che abbiamo fatto il primo cucchiaino di concentrato questo qui è l'ultimo l'ultimo cucchiaino c'avevo la video storta non so se ho preso le altre però questo qui è l'ultimo cucchiaio che è rimasto nel concentrato di 100 gabassi praticamente niente un 4 in 100 gabassi non è niente e adesso andiamo a guardarci quest'ultimo cucchiaino che mi sembra molto 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 interessante punta ripristinata zona purita e arrivederci alla prossima punta eccoci rora 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 lap rora giunti a destinazione Grazie a tutti